Un caro saluto da Diego Fusaro, un caro saluto a tutti. Leggo su ansa.it di alcuni ospedali, sette almeno se ricordo bene, che hanno avuto uno spiacevole episodio, cioè sono stati chiusi per la presenza riscontrata dai NAS di topi e di blatte nelle cucine. Ora naturalmente alcuni, in primis il sottoscritto, risultano indignati con moto naturale rispetto a ciò, evidentemente è sintomo di igiene non proprio curatissima, e in ogni caso però bisognerebbe anche dire che se si volesse essere rigorosi e conseguenti fino alla fine, questa è stata, non i topi per ora, ma le blatte sicuramente sì, blatte, vermi e larve sono stati presentati come prelibateli, come nuove delicatessen del futuro e del piatto unico globalisticamente corrette, quindi poi troviamo ogni tanto la contraddizione, no? Perché per un verso ci dicono che questo è il cibo del futuro, nutriente, che dobbiamo abbandonare ogni pudore, ogni vincolo a un passato che considerava questi cibi non degni di essere mangiati, e poi però quando li trovano evidentemente non vengono considerati igienici anche dagli stessi che li celebrano come cibo del futuro, quindi abbiamo una sorta di paradosso per cui per un verso ce li presentano come i cibi del futuro, squisiti, di fronte ai quali dobbiamo essere open-minded, e poi per un altro verso quando li trovano nelle cucine, come talvolta accade, chiudono le cucine e li trattano evidentemente non più come prelibatezze da difendere a ogni costo, ma anzi li considerano per quello che li abbiamo sempre considerati, cioè per disgustose presenze che rivelano oltretutto una scarsa cura dell'igiene, uno dei tanti cortocircuiti del pensiero unico politicamente e gastronomicamente corretto.